Ciao ci sono 3 e benvenuti sul mio canale E si come vedete ho ottenuto la honor guarda skin In questo video vi spiegherò come ottenerla E prima di iniziare ragazzi vi chiedo di lasciare un like E magari di iscrivervi al canale E di usare il mio codice supporto a un creatore Daviloca Lo trovate qua questo qua E se lo usate mi supporterete Guardate qua che bella skin Questa cosa così me la compro anche io dovevo vedere E comunque shoppando qualcosa nel negozio Mi arriverà una piccola percentuale E se usate il mio codice creatore Mi mandate lo screen che shoppate qualcosa su instagram Chioccio la fortedere Apparirete nel mio prossimo video e verrete salutati Quindi ragazzi per iniziare col video Vi spiego un po' questa storia Che come penso saprete ci sono stati molti problemi Con questa skin perchè è stata attivata e disattivata Più volte Infatti qualche mese fa Era iniziata la collaborazione tra fortnite e honor Ma nel giro di qualche giorno Subito L'offerta è stata interrotta Poichè alcuni avevano trovato il modo di ottenere la skin Senza possedere il telefono Infatti per ottenere la skin bastava inserire il numero seriale di un telefono Ed erano riusciti a generare dei numeri seriali senza avere il telefono Quindi ad inventarseli praticamente E ottenere infinite skin senza avere comprato il telefono Quindi Epic Games aveva disattivato l'offerta E qualche giorno dopo l'aveva ancora riattivata Cambiando i metodi per ottenerla Però serviva sempre il numero seriale che si poteva generare E anche l'e-mail 1 e l'e-mail 2 E anche quelli erano generabili Quindi allora Epic Games per questo motivo e anche per altri che però non ha reso pubblici Non ha spiegato perchè l'ha disattivata per la seconda volta Ha disattivato ancora l'offerta E sul sito di honor da cui si poteva prima riscattare l'offerta Adesso dovreste vedere lo screen Veniva scritto che honor stava sviluppando un metodo molto più facile per ottenere la skin Tramite l'applicazione gallery E che questo metodo sarebbe stato rilasciato il 28 marzo Quindi appunto il 28 marzo, quindi qualche giorno fa E' stato rilasciato il metodo e oggi vi spiegherò se avete un view 20 Come ottenere la skin Per ottenere la skin vi giuro è molto facile Vi basta aprire l'app app gallery nel telefono Quindi dovreste vedere gli skin in sovraimpressione di come fare i passaggi Puoi andare in basso a destra sulla sezione mi Quindi la sezione utente, la sezione io dove puoi vedere il tuo profilo Andare sulla sezione regali ovvero gift E premere sul banner che ci sarà in alto Con scritto honor guard outfit banner E se non vi chiederà innanzitutto di installare Fortnite Potete però anche non farlo Quindi annullando l'installazione e tornando su app gallery Otterrete il vostro codice Se prima di ottenere il codice vi chiederà di effettuare l'accesso con un Huawei ID Fatelo perché serve per controllare che appunto abbiate un Huawei ID e che abbiate effettivamente il telefono E appunto vi verrà dato il codice E poi vi basterà andare sul sito fortnite.com slash redeem E inserire il codice e ottenere la skin Quindi ragazzi questo era un video su come ottenere la honor Fortnite skin E nulla spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate il like e iscrivetevi al canale Vi ricordo il codice supporta un creatore Davidoca E ci vediamo alla prossima Ciao ciao Prova 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 Pro Grazie a tutti.